Signori e signore buonasera cari amici siamo qui in un'altra delle nostre conferenze organizzate dal Daino Bianco ospitati in questo bellissimo albergo del signor Guerri tra l'altro questo albergo ha sempre quel fascino l'ho raggruppato, le ho raggruppate in periodi storici iniziando dal Rinascimento, poi successivamente col Secento, col Barocco, Ottocento fino ad arrivare alla contemporaneità e quindi ho messo alcune pittrici contemporanee che come sapete noi disdegniamo un po' come Toscani l'arte contemporanea e invece anche quella ha il suo fascino e gli uffizi sono pieni di opere di artiste contemporanee come vedete ho voluto chiudere questa lista con Anna Maria De Medici Anna Maria De Medici detta Ludovica De Medici perché lei è stata quella donna di casa Medici eccellente, eccezionale, lungimirante che è riuscita con i patti di famiglia a mantenere tutto il patrimonio artistico della famiglia Medici nella Firenze quello che noi andiamo a vedere come sapete altrimenti avrebbe preso strade diverse questa presentazione io, come dicevo, l'ho raggruppata in diversi periodi storici ho iniziato con la prima pittrice annoverata dal Basari che è la pittrice Una Suora, Suol Prautiglianelli col Compianto De Santi che è presente nella chiesa di San Marco naturalmente allora nel 1500 in pieno rinascimento le donne, molte donne anche di valenza eccellente come artigiane e pittrice andavano a vivere nei convendi quindi ritroviamo donne di grande calico anche se poco riconosciute perché molte non si firmavano però ogni casa fiorentina aveva un dipinto votivo fatto da suore artigiane e pittrici a livello italiano e a livello europeo i convendi toscani erano quelli più quotati e più ricchi di suore artiste vi rammento tanto per dire che questa disciplina era una delle discipline anche nella letteratura erano eccelsi la sorella di Suol Prautiglianelli Petro Nilla Nelli e la suora che ha fatto allora nel pieno rinascimento la bibliografia del Savonarola che tuttora, tuttora è ancora in pubblicazione quindi abbiamo donne di grande valenza al di là se suore o meno quindi subito dopo ora io di queste 23 non mi soffermerò su tutte perché altrimenti si farebbe troppo tardi però ritengo di dovermi soffermare su quelle donne che hanno veramente cambiato o per opportunità o per strategia di scuola hanno cambiato il volto della pittura con la mano femminile qui abbiamo Sofonisma Anguissola nata a Cremona lei già il nome particolarmente richiama un nome non usuale anche lei ha avuto un'educazione eccellente non comune perché non era educata per svolgere mansioni domestiche ma fu educata per svolgere attività pittoriche musicali e anche letterarie perché? Perché la famiglia da cui proveniva una famiglia nobile e di grande valenza oggi si direbbe progressista già allora accompagnata dalle altre due sorelle si recava nei lavoratori di pittori per imparare l'arte cosa che non era comune cioè era permesso a malapena agli uomini quindi ci troviamo in situazioni familiari di grandi opportunità ma questo lavoro andando avanti vi dimostrerà che non solo non solo le opportunità le hanno avute anche in determinate situazioni di disagio e le opportunità sono state trasformate in grande privilegio e in forza di carattere cioè quindi la grandezza del carattere di una donna è dimostrata proprio da questa situazione che a volte la disabilità il disagio familiare, sociale il fatto di essere subalterni diciamo ti corazza per emergere in maniera determinante e quindi questa è la dimostrazione perché qui noi abbiamo personaggi di grande valore naturalmente Artemisia Gentileschi la conoscete tutti dopo tre secoli finalmente è stata valutata per la pittrice quale è per grande dote non solo di talento ma anche di personalità ma soprattutto era ricordata per il suo evento per il suo processo sapete benissimo che fu abusata da un pittore amico del padre che purtroppo in quelle occasioni si pensava di riparare con il matrimonio naturalmente lui era già sposato la cosa non era possibile e subì un processo perché lei determinata non cambiò la sua versione dei fatti e dimostrò anche sotto tortura in pubblico allora le torture si svolgevano in piazza con strumenti lei fu sottoposta a schiacciamento delle dita quindi anche un disagio anche per la sua professione ma lei anche sotto tortura non cambiò la sua versione dei fatti questo non solo gli accreditò la sua permessa di carattere ma perseguitò anche successivamente a professare la sua grande passione quella di essere una pittrice fu chiamata in diverse corti europee quindi questo ce lo dimostra dai tantissimi lavori che lei ha fatto questo è un autolitrato che si trova a Londra la Paladine è una fiorentina anche lei molto brava purtroppo morta in giovane età qui abbiamo la natura morta di Giovanni Garzoni Giovanna Garzoni anche lei a differenza di altre ha perseguito la sua pittura la sua innovazione però a differenza di Anguissola di Sofonismo lei non aveva disponibilità economiche fu iniziata la pittura dallo zio ma poi la sua grande valenza fu quella di affermarsi per la determinazione e per la diversità della pittura che come vedete è diversa da quella del genere che veniva allora usato soprattutto nei paesi del nord Europa lei è morta a Roma ha lasciato e sepolta all'Accademia di San Luca dove lei lasciò tutti i suoi averi con o a condizione che fosse sepolta nella chiesa di San Luca dell'Accademia questa è straordinaria lei è una donna dei Paesi Bassi anche in questo caso ci troviamo davanti a una donna talentuosa ma con poche opportunità economiche quindi lei ebbe un mecenate questo mecenate naturalmente pensò alla sua educazione però in età matura naturalmente lei era figlia di sacerdote in età matura dovette consentire di essere promessa in sposa la Osterwick pur di essere esentata da questo dovere sociale di essere data in sposa a un valente pittore pose delle condizioni pensate che allora le donne non erano così ferrate determinate da porre condizioni mi voglio sposare o no in questo caso la Osterwick pose le condizioni a questo suo matrimonio con una condizione inusuale veramente straordinaria chiese che il promesso sposo non le facesse la corte per 12 mesi pur avendo il lavoratorio perché era anche lui pittore di fronte al suo dirimpetto e per 12 mesi non doveva corteggiarla quindi immaginate una condizione del genere se fosse stata presa seriamente allora comunque lei molto determinata a mantenere e a ricevere queste condizioni alla statezza dei 12 mesi ogni occasione che il promesso sposo si apprestava a visitarla lei segnava sul davanzale con una tacca a ricordo della promessa infranta a conclusione a termine dei 12 mesi questo andò a reclamare la sua mano e che a quel punto le fecero notare che non erano stati rispettati le condizioni per cui lei rimase nubile naturalmente allora non era facile trovare assistenti maschili quindi lei addestrò la sua domestica a farli d'assistente cioè quindi si trovavano veramente in condizioni disagiate anche per svolgere quelle comuni attività che di solito in un laboratorio venivano svolte tipo dipingere i fondi da assistenti quindi le donne di quell'epoca hanno quasi sempre addestrato le proprie assistenti ecco mi fermo su Elisabetta Sirani ecco lei purtroppo è morta giovane a 27 anni però a 16 anni era già nella piena attività dipittrice fu iniziata dal padre a questa attività però a 16 anni lei già manteneva totalmente la famiglia e che quindi il padre fu abbandonò la professione e si mise al suo servizio la Sirani è avuto degli elogi straordinari è stata descritta come la gloria del sesso femminile lei stessa è stata a scuola di Guidoremi e seppellita accanto alla sua tomba e la Sirani lei per la sua valenza già a 27 anni aveva fatto oltre 300 dipinti non veniva creduta come era facile immaginare e quindi era fu costretta a svolgere delle sedute pubbliche di pittura a queste sedute pubbliche fu invitato anche Cosimo III e si rammenta che in quell'occasione oltre a farsi dipingere una madonna dalla Sirani fece il giorno stesso dipingere anche un ritratto dello zio Ferdinando a questo punto il solito giorno andò via con la tela già completamente dipinta con i colori ancora morbidi ancora freschi queste sedute erano svolte in maniera pubblica quindi in piazza oppure nel suo laboratorio alla presenza della popolazione questo perché perché lei aveva una mano aveva un metodo di dipingere molto fresco lei dipingeva prima di dipingere disegnava per cui gli era facilitato poi la mano poi il carisma il talento fa il resto e quindi questo a dimostrazione della sua bravura Cosimo III quando quando si recò nella sua residenza in onore di quanto ricevuto e sempre in omaggio a questa grande artista gli donò un procedizio di primanti naturalmente quando lei morì non tutti furono capacitati da una morte che fosse stata una morte naturale quindi ci fu un'indagine perché pensavano che fosse stata avvelinata dopo alcuni processi subiti dalla cameriera successivamente fu riscontrato che lei morì per urcera for Gorante qui abbiamo delle nature morte della Ruisc anche questa è una donna straordinaria alla corte della famiglia Medicia pittrice di corte in questa occasione lei a differenza di altre che dovevano seguire la corte lei rimasse ad Amsterdam col marito i dieci figli che ebbe a ogni figlio donò dieci dipindi come dote e vi dico un anetto che viene spesso citato che l'ultima figlia per sposarsi dovete aspettare otto anni quindi immaginate per produrre questa era molto richiesta lei si avvicinò all'arte pittorica perché il padre un famoso botanico fu incaricato di produrre un atlante sulla botanica e lei da già nove anni aiutava il padre a fare questa selezione e questo catalogo in questa occasione prese nota il padre che era che era veramente riusciva a trasformare gli insetti come peri sul foglio per cui questo gli portò a dedicargli veramente un'educazione pittorica e quindi la mandò da un valente pittore per educarla all'arte e questa è la fratellini la fratellini è una toscana anche lei qui è un autoritratto che troviamo nel corridoio basariano lei si rifà alla Rosalba Cagiera che dette diciamo l'opportunità alle donne di mettersi in mostra con un tipo di pittura diversa lei ha dipinto col pastello e quasi tutti i suoi dipinti sono a pastello logicamente questo gli dava una possibilità di essere più fresca e stemporanea la Rosalba Cagiera anche lei fu iniziata nel lavoratorio di famiglia per dipingere delle miniature delle tabacchiere fino a quando decise la sua strada con le due sorelle anche esse pittrice dicevo che anche lei come la siriane aprì una scuola per donne e la prima scuola che fu che sfornò 24 artiste fu quella della siriane la bolognese lei ebbe meno fortuna in questo campo ecco qui invece abbiamo la Giulia Lama lei è contemporanea del piazzetta lei bravissima in tutte le arti perché a differenza di quello che si fa ora che la disciplina che si sceglie si approfondisce allora erano molto colte nelle diverse discipline la Giulia Lama addirittura era una matematica la sua poca fortuna fu data anche dalla poca bellezza estetica sua e quindi questo a volte come sappiamo bene a volte limita l'opportunità della crescita per il futuro lei è Beatrice Serotti ecco qui invece mi soffermo quelle più interessanti abbiamo Angelica Caffman lei già a nove anni lei svizzera già a nove anni seguiva il padre pittore e emergeva anno per anno quindi lei a 16 anni era padrona della sua vita della sua arte lei è quella che è riuscita a convincere il re Giorgio III a Londra a fondare l'Accademia la Royal Accademia quella che tuttora noi andiamo a visitare quando andiamo devo dire che lei non era solo pittrice di tele ma affrescava anche le sale quindi nell'Accademia Londinese troviamo alcune sale affrescate da lei lei ha vissuto molto in Italia e a Roma gli fu preparato un funerale degno di un capo di Stato fatto dal Canova cioè queste persone quando sono state riconosciute a tutti gli effetti del proprio talento non hanno avuto rivali la storia poi ci insegna che poco si sa e nei libri di testo poco ci viene detto quindi queste opportunità che stiamo dando e anche questa pubblicazione con l'associazione ci dà l'opportunità di far emergere questo quest'altra metà dell'arte teniamo a rilevare che non vogliamo settarismi non vogliamo rivalse maschile femminili perché l'arte ha un privilegio quella di essere amata da tutti e di qualunque sesso non c'è distinzione quando si vede una cosa bella non ci chiediamo chi l'ha fatto una donna o un uomo diciamo che bello e apprezziamo la bellezza quindi questo lo dobbiamo tenere sempre presente ecco qui abbiamo Elisabeth Rigellebrun anche lei una donna determinata alla corte ma lei è stata veramente straordinaria perché con questo dipinto chiesto ufficialmente dalla casa medici per il corridoio vasariano questo dipinto non passò neanche la commissione di solito per essere esposti all'uffizio o alla commissione o nel corridoio vasariano doveva avere il benestare di una commissione apposita in questo caso il suo ritratto il suo autoritratto perché questo è di mano sua è stato direttamente collocato per diritto benvenuto Enzo Tacioli della sovrintendenza ti aspettavamo dovevi iniziare te abbiamo iniziato noi quindi ora tu devi concludere quindi ti dai da fare dopo guarda ecco questa invece è la Cosmai anche questo è stato restaurato da poco è un dipinto restaurato proprio ritrovato dalla direttrice Giovanna Giusti la Cosmai qui ci troviamo davanti non solo a una pittrice ma molto una donna eccellente di grande eclettismo quindi anche lei fondò una scuola per ragazze per per preparare per il futuro per la famiglia e per la società devo dire che pensare queste cose a quell'epoca con un in una situazione ambientale non facile era già di per sé un grande coraggio inoltre bisogna dire che lei ha avuto una era così affascinante e così brava che ebbe anche un rapporto con il presidente degli Stati Uniti Jefferson anche se solo platonico però voglio dire apprezzato a tutti gli effetti naturalmente il marito pittore anche e pittore di corte ne era molto geloso ecco qui abbiamo Luisa Grace Bartolini sposata a Pistoia con l'ingegner Bartolini lei venne in Italia per questione di salute però lei già a 15 anni traduceva benissimo in italiano i testi gran parte dei suoi dipinti e dei suoi manoscritti e di tutto quello che faceva parte del suo patrimonio lo ritroviamo alla biblioteca maruceriana anche lei nel donare tutto il patrimonio pose delle condizioni che fosse aperto al pubblico e quindi non solo appannaggio di pochi quindi vedete che queste donne anche già da allora vedevano lontano cioè quindi Maria Luisa dei Medici questi hanno sempre valutato che l'opportunità doveva essere per tanti e non per pochi ecco Rosa Bonner oggi diremmo una donna oggi si direbbe femminista ecco ma anche oggi sarebbe troppo poco lei ha sempre aiutato da una famiglia diciamo abbastanza emancipata il padre la portava sempre con sé alle fiere dei cavalli dove lei effettivamente amava andarci e per andare in questi posti bisognava vestirsi da uomo quindi lei usciva di casa con i calzoni sigaro e cappello naturalmente pensate che nell'ottocento questo non era non era possibile quindi lo stato francese aveva previsto alcune multe lei ne ebbe molte fino a quando non gli fu fatta proprio una dispensa proprio per vestirsi con abiti maschili ma lei è stata la prima ad acquisire la medaglia della legione onore come donna a esporre all'esposizione internazionale di Parigi cioè quindi nel momento in cui queste donne emergono e vengono riconosciute non hanno non hanno tali lei amava gli animali naturalmente con la sua compagna anche da questo lato qui fu sui generis perché andare ad abitare con una compagna a quei tempi non era non lo è ora figuriamoci allora quindi aveva percorso i tempi molto molto precocemente però il suo talento non è stato da tutti riconosciuti riconosciuto qui abbiamo la Chaplin qui abbiamo negli uffizi abbiamo tre generazioni di Chaplin questa è la nipote di Charlie Chaplin anche lei come vedete nel dipingere amava molto i i pastelli i colori i temi e questo è quella che la distingue da da tutte le altre della sua epoca chi di voi non ha letto o non ha avuto a che fare con Simone de Beauvoir eccetera eccetera ecco e questo è un dipinto della sorella è un autoritratto che ha donato alla galleria degli uffizi questo questo dipinto devo dire che è un pennarello molto cioè un pastello molto temo è ben curato e presente oggi nei depositi perché non è stato ancora esposto però a rotazione ci hanno detto che questo sarà possibile ecco lei con questo autoritratto afferma la sua determinazione e l'affermazione della sua carriera questo è un altro autoritratto è l'autoritratto di merito open name vi ricordate la tazzina con la pelliccia tutte queste armoma di New York eccetera è sempre lei lei è nata come modella di Max Ray cioè di un fotografo allora anche suo compagno eccetera eccetera fino a quando si accorse che non era la sua la sua vita quella di modella ma voleva esprimere il suo la sua arte e quindi questo è un suo autoritratto presente a Firenze finisco questa carrellata con Mirella Ventivoglio perché finisco con lei finisco con lei perché è ancora una contemporanea e anche perché lei a differenza delle altre e di poche altre ha raggiunto la quota di 330 dipinti e opere artistiche di donne che le ha raccolte dal 72 fino all'anno scorso e l'anno scorso le ha donate al museo al Mart di Roveretto cioè quindi una donna che ha lavorato per le donne non solo come artiste ma anche come scrittrice giornalista eccetera quindi lei diciamo che ha dato anche quel coraggio che a molte donne è mancato di esprimersi nelle collettive nelle mostre d'arte quindi Mirella Ventivoglio si è rappresentata come autoritrato con l'io io sono questa ecco e qui è rappresentata noi naturalmente questi dipinti li abbiamo fatti fare a nostra amica pittrice che ha collaborato alla redazione di questo libro perché chiedere le foto agli uffizi veniva a costare una cifra per cui abbiamo fatto tutto con le nostre forze con questa equip di lavoro straordinario e ognuno ovviamente con la propria disciplina tutto questo nei nostri incontri con i nostri amici e chi ci ha seguito l'abbiamo fatto visionare in anticipo questa visione questa concertazione sono scaturite tante riflessioni riflessioni interessantissime che anche questo abbiamo ritenuto importante decisivo metterlo in questo libretto questo libretto ovviamente ha la funzione non solo di divulgare quello che noi si è detto e quello che ovviamente vogliamo che si conosca ma anche come sostentamento di questa associazione l'associazione ASEBA ora sull'associazione troverete anche una scheda ma prima di leggere la scheda visto che abbiamo l'opportunità di avere Nanda Bratellesi qui direttamente io farei sintetizzare la scheda direttamente da lei perché è molto importante perché poche volte noi ci soffermiamo su questa su questo tipo di lavoro che molte di queste associazioni fanno per noi e per la società Nanda spiega a te il tutto perché penso che meglio di te non lo può di nessuno buonasera a tutti io devo ringraziare tantissimo Mina e tutte le altre persone che hanno collaborato a questo percorso perché è stato un percorso importantissimo Mina aveva già raccontato appunto l'impossibilità di partecipare la mia impossibilità di partecipare l'anno scorso personalmente ma nel momento in cui ho avuto l'opportunità di vedere il suo lavoro la prima reazione la mia prima reazione è stata quella di dire sinceramente per i per le conoscenze scolastiche che io ho di storia dell'arte per me le pittrici non esistevano perché nei libri di storia dell'arte si parla esclusivamente di pittori poi purtroppo le vicende della mia vita non è che mi hanno permesso di dedicarmi a questo aspetto e quindi per me è stata una grande scoperta per cui mi è venuto subito spontaneo suggerire a Mina di mettere di fermare questo lavoro e di farlo conoscere perché era un lavoro importante siccome appunto come ha già detto Maria Teresa e come ha detto Mina io sono presidente di questa associazione ASEVA che è l'acronimo di associazione senza barriere è un'associazione composta da genitori con figli disabili da genitori con figli disabili che hanno fatto un percorso un po' particolare cioè hanno deciso di non passare il loro tempo a piangersi addosso hanno deciso di mettere in atto tutte quelle strategie che permettessero ai propri figli di sviluppare ciascuno le capacità che hanno dentro di sé perché molto spesso noi vediamo una persona disabile e andiamo a focalizzare la nostra attenzione su quello che lei non può fare e non ci fermiamo e non riflettiamo sulle tante capacità che ha e questo errore in primis lo facevano i genitori io ho avuto la fortuna di conoscere delle persone eccezionali che mi hanno fatto aprire gli occhi su questa cosa e quindi mi è sembrato giusto comunicarlo anche coinvolgere in questo percorso altri genitori non solo se è ritenuto giusto fare essere da stimolo agli enti perché purtroppo solo chi vive personalmente e si organizza dalla mattina alla sera a gestire certi percorsi ne conosce i bisogni e spesso ne sa elaborare le strategie perché io su questo tema sono molto cerco di essere molto onesta con me stessa e con gli altri dicendo che se non fossi venuta a contatto con la disabilità per questa motivazione mia familiare molto probabilmente mi sarei rimasta al margine come tante persone fanno dal momento invece che ci sono entrata dentro mi sento come cittadina come cittadina attiva come genitore come persona credente in dovere di comunicare agli altri di stimolare gli altri a fare qualcosa perché ciascuna famiglia ciascun genitore aspettava un bambino di un certo tipo in una famiglia quando siamo in attesa della nascita di un figlio si aspetta che sia il più bello il più bravo poi succedono delle situazioni si verificano delle situazioni per cui questo non avviene e i genitori si devono organizzare per percorrere strade per le quali non sono preparate e quindi l'associazione cerca di supportarlo in questo percorso purtroppo specialmente da sempre ma specialmente in questo periodo storico la mancanza di fondi la crisi la mancanza di fantasia perché io vedo che lavorando con un po' di fantasia si riescono a mettere a frutto gli scarsi finanziamenti che si hanno a disposizione e si riesce a costruire un percorso per cui devo essere anche in questo caso l'esta il lavoro di Mina era molto interessante però ci poteva anche fornire l'opportunità per un autofinanziamento d'altra parte mi è sembrata una modalità completamente nuova perché difficilmente un'associazione di volontariato che si occupa di disabilità va a confrontarsi con ambienti artisti con temi di questo tipo invece io nella vita di molte di questi artisti ho notato e poi ho intravisto la funzione della fittura come proprio terapia perché questa loro passione è servita per dargli la forza di combattere contro le avversioni più grandi e di superare problemi veramente grossi per quell'epoca perché insomma bisogna un pochino allargare la nostra mente e ripensare a come era organizzata la vita nell'epoca in cui sono vissute queste persone che poi non era molto diverso di una cinquantina di anni fa da noi anche meno e quindi secondo me è stato un percorso importante è stato un percorso importante anche perché ha visto casualmente a lavorare insieme un gruppo di donne sfatando quella famosa concezione in base alla quale le donne non legano tra loro e cercano di combattersi l'una con l'altra invece si è dimostrato in maniera chiara che quando si fanno percorsi intelligenti quando si fanno percorsi che hanno un valore un grosso valore ciascuno impara e secondo me questo dovrebbe essere il segreto un po' di tutto perché se non si impara nella nostra vita nel nostro mondo in modo particolare a dare ciascuno il meglio di sé per il bene comune senza combattersi l'un l'altro non si arriva a niente quindi io ringrazio di nuovo Mina ringrazio tutte le persone che hanno collaborato a questo percorso ringrazio i signori guerri che ci hanno aspettato stasera e Maria Teresa che ci ha aiutato nell'organizzazione di questa cosa perché secondo me si fa conoscere un percorso nuovo si fanno conoscere appunto si dà valori a una una ricerca precisa puntuale e lavoriosa alla quale Mina aveva dedicato tanto tempo e che giusto sia conosciuta da un numero maggiore di persone mi sembrerebbe giusto che avvenisse Enzo il quale conosce molto bene Mina ha delle capacità artistiche e conosce anche l'associazione giustamente che oltre ad averci presentato il libro in una maniera veramente eccellente parlando di bellezza e lo chiamo anche nella doppia veste di uomo impegnato nel sociale perché le sue molteplici attività non sono solo quelle lavorative alla sovrintendenza dei monumenti di Firenze ma lavora in diversi settori sempre a livello di volontariato e di associazioni culturali Enzo ora facci sognare quello che va prego con una presentazione così non può fare che una brutta figura no io mi vengo a vedere la posta sì sì anche perché io sono tornata a Corsa e sono venuto veramente volentieri solo che invece di una prefazione faccio una postfazione come si userebbe dire in un testo innanzitutto il saluto un saluto di una donna che è la mia sovrintendente Alessandra Marino che porta il saluto a tutti voi e da una istituzione che ha nella cultura la sua ragione di esistere la sua intendenza per i beni architettonici e per i beni storici e artistici nel nostro territorio nella provincia di Firenze Vittoria e Prato poi questo è il saluto di un uomo uno delle tre firme maschili e italiane nel testo nel libro di cui io mi onoro di far parte anche perché quando la Mina e la Nanda me lo chiesero iniziai a pormi tutta una serie di interrogativi ve lo dico sinceramente e tuttavia ho capito bene il perché e ve lo dico in tre parole ringraziando Prima Mina e Nanda per il frutto del loro lavoro e per ciò che stanno facendo il grazie tra loro è alle donne protagoniste di questo libro donne quasi sconosciute alcune anche grandi donne famose ma donne quasi sconosciute perché questo libro originale perché nasce da un'intuizione molto singolare che la donna ha la capacità di portare a sintesi ciò che nella realtà di oggi è conflittuale è contrastante e portare a sintesi guardate è la cosa più difficile in questo mondo lo vediamo in tutti gli ambiti della nostra vita lo vediamo nella politica come è difficile fare sintesi eppure la politica non sarebbe il contrasto dei diversi ma sarebbe la sintesi delle diversità fra le diversità cioè la capacità di raggiungere un più alto grado di quelle che le parzialità sono e si esprimono ma anche la pittura è la capacità di far sintesi la capacità di far sintesi fra il reale e il percepito la capacità di far sintesi fra ciò che esiste e ciò che vorremmo e questo è tipico sia di chi lavora per tutti mina è un funzionario del comune del reggello io sono funzionario della sovrintendenza quindi istituzioni che lavorano per tutti e è caratteristica anche di chi pone l'intuizione la fantasia la cultura al servizio della crescita dell'insieme allora far sintesi non vi dispiacerà se io prendo tre definizioni che nel volantino che presenta a seba sono presenti anche perché nasce da seba se minanni è la principale autrice però la prima riflessione è questa a seba pone come slogan una slogan importante la diversità rende liberi e allora queste donne e il ruolo anche della donna nella società molto spesso ci aiuta a coniugare non a contrapporre diversità e libertà diversità e bellezza io nella mia preparazione ho citato una donna quasi talvolta sconosciuta ai non addetti ai lavori Suzanne Valadon una francese di fino a 800 è stata una anche lei è nata come modella come tante donne hanno saputo conquistare la fama attraverso un itinerario e talvolta è stato anche un itinerario porrascoso questa è una donna che ha avuto delle gravi difficoltà anche con i figli e vivendo ore di grande drammaticità ecco lei si esprime in un suo passaggio che è forse il più famoso e dice non bisognerebbe mai mettere la sofferenza né di sé ma tuttavia non si annulla senza dolore l'arte è qui per rendere eterna questa vita che noi odiamo vedete è una donna che non nasconde per niente la drammaticità dell'esistenza tuttavia accetta una sfida quella di un'arte che ci spinge verso l'immortalità cioè verso qualcosa di ulteriore aggiungo a questa una seconda situazione che molto spesso ci fa cogliere la bellezza nel suo valore reale molto spesso la bellezza è stata ritenuta qualcosa di ulteriore di inutile quasi di non da non poter mettere a profitto e Dostoevsky in un suo testo molto bello di far dire a uno dei protagonisti queste parole sappiate che l'umanità può fare a meno degli inglesi può fare a meno della Germania che niente di più facile per lei che fare a meno dei russi che per vivere non ha bisogno né di scienza né di pane ma che soltanto la bellezza è indispensabile perché senza bellezza non ci sarà niente da fare in questo mondo qui è tutto il segreto tutta la storia è qui ecco guardate il fascino che ha esercitato in queste donne un'attenzione al bello è stata la leva che le ha fatte uscire dall'anonimato e le ha fatte apprezzare e osservare Galileo Gallei nei primi anni del seicento scriveva a Elio Diodati era un fiorentino un suo amico dicendo queste parole Elio Diodati era diventato cieco negli ultimi anni della sua vita e dicevano così ora pensi signoria vostra in quale angustie si sta trovando la persona mia io che per mille volte ho moltiplicato e ampliato quel cielo quell'universo conosciuto da tutti i sapienti e i dotti di tutti i tempi ora mi sto ritrovando costretto a vivere nelle dimensioni che occupa la persona mia cioè un uomo che aveva sclusato le stelle la bellezza del creato e si vedeva costretto ad arrivare alla punta della sua sensibilità è diventato cieco forse questo desiderio noi spesso non lo coltiviamo siamo molto provinciali ci accontentiamo dall'oltre del piccolo orizzonte ma coltivare un orizzonte più ampio è il segreto per poter trasformare la realtà e l'arte c'ha questo è riuscire a farci intuire un orizzonte più ampio che vada al di là del déjà vu al di là dello scontato e ci fa scoprire nella persona nel paesaggio nella natura morta una dimensione che è sempre nuova e ulteriore e punti di vista che sono sempre nuova e ulteriore infine Aseva ha un altro motto un altro mondo è possibile vero Nanna? eh sì mi sbaglio? no no ok che non vuol dire un mondo altro da questo che non esiste ma un mondo diverso nuovo cioè la capacità di coniugare il conflitto attuale che in ogni tempo esiste con la dimensione della speranza allora vorrei anche stavolta leggere dei due testi dei due autori che hanno dato un segno molto forte in questa direzione cioè la capacità di intuire uno lo conoscete tutti ma siccome in questi giorni ho avuto modo di meditarlo ve lo propongo è semplicissimo ce l'ho due minuti vero Nanna? o no? sì 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 scusate magari mi chiedo un po' troppa pazienza è il famoso sogno I have a dream di Martin Luther King sapete benissimo che tipo di realtà era e allora Luther King dice perciò parla ai neri che avevano vissuto il loro momento forte iniziavano la loro marcia di emancipazione nella società americana ho davanti a me un sogno che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e figli di coloro che un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza ho davanti a me un sogno che un giorno perfino lo stato del Mississippi uno stato colmo dell'arroganza dell'ingiustizia colmo della oppressione si trasformerà in un oeste di libertà e di giustizia e ho davanti a me un sogno che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in un'azione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle ma per le qualità del loro carattere ho davanti a me un sogno oggi ecco la capacità di intuire se lui avesse detto come qualcun altro ha detto che magari ritirando un premio nobbero che io vedo nel pensiero di Luther King e di Gandhi però sappiate concretamente che noi non ne riveneremo la guerra dal nostro mondo e quindi che l'arte ci può appellare che il genere femminile ci può appellare però non ci credete lui diceva sogno per i miei figli questo ha detto noi questa generazione non faremo niente di tutto ciò consegneremo ai nostri figli un problema da risolvere quello di un mondo senza conflitti e non lo avremo se non lo intuiamo prima se non lo desideriamo se non lo crediamo possibile ecco queste donne ci hanno fatto intuire proprio questo che c'è una speranza c'è una speranza al di là del conflitto attuale che l'arte può risolvere perché l'arte non è solo un'evita immaginale ma anche un'azione intrapresa già intrapresa è la descrizione di un mondo esistente e nuovo al tempo stesso e la descrizione di un sogno realizzabile e Vaglad Avel era stato il presidente della Cieloslovacchia in un suo testo dice così ci sono due modi di sperare si può sperare come coloro che aspettavano Godot ricordate l'opera famosa ma sperare come coloro che aspettavano Godot è come sperare di vedere fiorire un fiore che non abbiamo mai piantato ma si può sperare come il contadino come colui che prende il seme semina attende con un altro tipo di speranza la speranza che noti la certezza che quel fiore nascerà perché 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 ho messo mano e non solo l'ho fatto intuire ma l'ho anche posto in essere ecco è un po' questo l'augurio che faccio anche a Seba a Mina a tutti noi cioè di sapere coltivare nella conflittualità e nelle contrapposizioni di oggi quella sintesi che sia l'arte in sé sia la novità ecco che la donna può portare nella vita comune ci può rendere percepibile possibile ecco altrimenti questo mondo non sarà mai diverso grazie allora scusami Maria Teresa dovresti chiudere te ma prima di darti la parola voglio ringraziare Enzo perché è stato più generoso del solito vi assicuro lui è sempre bravo perché non è la prima volta che insieme ci troviamo a presentare un libro però devo dire che evidentemente si sente che c'è dell'amicizia dell'amore nei nostri confronti e l'ha dimostrato con questa diciamo conclusione doveva essere una presentazione ma c'è calvata di più alla fine quindi grazie grazie veramente di cuore Enzo veramente generoso passo la parola per chiudere il pomeriggio la serata a Maria Teresa io sono qui io mi trovo non fa se lo accendi se lo accendi allora io sei un mostro emozionata molto molto perché sono emozionata perché Mina perché Nanda hanno accolto l'invito che io quest'inverno gli ho fatto nel presentare i loro lavori qui nel ciclo di queste manifestazioni per alietare un po' tutti noi e soprattutto anche Enzo Cacioli che ci conosciamo da tanti anni perché mi ha seguito anche nelle storiche delle cappelle di Vallombrosa che combina abbiamo portato avanti per anni anni e anni quindi l'abbiamo torturato diciamo e poi è una persona così squisita così piena di amore anche per la nostra località soprattutto sperma all'ombrosa quindi io tra l'altro visto che siamo qui a parlare vi ricordo che domani sera c'è una sua conferenza che riguarderà andrete a vedere il 2 agosto riguarderà la storia del restauro del coro dell'abbazia di Lucchese da Porgifonzi detto coro di San Pancrazio anche se padre Damiano mi ha detto che questo Lucchese no c'era un errore da parte mia nello scrivere il come si dice il nome dell'autore e quindi io domani sera abbiamo di nuovo il dottor Cacioli qui in questa sala perché ci illustrerà anche egli dal video dei particolari che serviranno a noi per capire quindi io non vedo l'ora di arrivare domani sera sono contenta della serata ricorda l'orario sarà sempre alle 17.30 e quindi cioè sono è stata una serata bellissima anche questa ha arricchito un po' tutti noi e credo anche tutti voi perché ogni conferenza ci lascia dentro qualcosa di interessante io vi ringrazio tanto tanto e vi do appuntamento a domani sera grazie grazie